ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi come già avete visto dal grembiolino si tratta di una ricetta stasera abbiamo intenzione di fare una ricetta per quanto riguarda i funghi facciamo i funghi ripieni con il prosciutto mozzarella aroma e mettiamo un pochettino di ketchup andiamo col procedimento un pochettino di freddo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.